Con grande piacere che questa sera presento su questo palcoscenico un amico naturalmente ma un grande grande sassofonista. Sto parlando di Andrea Marangoni, ci presenterà questa cumbia speciale. Questo è un brano, anche questo, il secondo brano che fa parte di Woodwining Loves, appunto coreografato tra l'altro da un artista di livello internazionale e le grandi scuole di ballo che appunto faranno parte di questa esibizione. Sto parlando di Luis Capasso con Baila con Luis e la sua appunto scuola di danza. Ascoltiamo il virtuosismo e la grande grande musicalità del maestro Andrea Marangoni in Ararat. Grazie a tutti. 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 Andrea Marangoni. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.